Pace e bene cari amici, bentrovati. In questa terza domenica del tempo di avvento continuiamo il nostro cammino di conversione sulle orme di Giovanni Battista, che ha camminato per primo sulle orme di Gesù. In particolare ci troviamo davanti al dubbio, potremmo dire alla notte oscura, che attraversa il precursore del Signore. Vediamo un po'. Giovanni è in una situazione nuova. Domenica scorsa, se ricordate, lo abbiamo lasciato al Giordano, dove predicava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati e tanti andavano da lui disponendosi ad accogliere il Messia. Oggi lo troviamo in una situazione nuova. È in carcere, solo nel carcere del Macheronte, a sud-est del mar morto, un carcere disumano costruito in un luogo orrido, solo, prossimo alla morte, attraversato quindi dal dubbio. E si pone delle domande, quelle domande normali che ognuno di noi in certi momenti si ritrova ad affrontare e magari a lasciar risuonare nel suo cuore. Ma ne valsa la pena? Ma è valsa la pena donarmi, fare del bene, se non ho raccolto nulla? È valsa la pena seminare? È valsa la pena scegliere il bene? È valsa la pena se poi mi sembra che tutto ciò non abbia portato frutto? Queste domande sono domande utili, preziose, necessarie per andare più in profondità nella nostra vita, purificare anche il nostro rapporto con Dio e purificare anche il nostro amore, un amore che diventi sempre più gratuito, sapendo che i semi che abbiamo piantato nel cuore degli altri, con parole, con gesti belli, sono semi eterni, di cui il frutto pieno lo raccoglieremo in Dio. Ma in particolare Giovanni è attraversato da un dubbio profondo che riguarda Gesù. Se ricordate, nel Vangelo di domenica scorsa Giovanni ha annunziato la venuta del Messia con tinte forti. Lui si aspettava uno che venisse a far giustizia, a separare buoni e cattivi, che venisse in modo irruento, forte, da dominatore e Gesù non corrisponde alle sue attese. Gesù sta facendo altro, accoglie i peccatori, va incontro ai poveri, guarisce, risana, si prende cura. Non è quello che Giovanni si sarebbe aspettato e manda a chiedere a Gesù, ma sei tu quello che attendevamo o è qualcun altro? Giovanni attraversa la purificazione dell'idea che ha del Messia, dell'idea che ha di Dio. Quante persone sono prigioniere di un'idea distorta di Dio che le porta a vivere male non solo il rapporto con lui, ma l'intera esistenza, l'intera propria vita. Tante volte, diceva Papa Francesco, noi rischiamo di costruirci delle immagini di Dio che impediscono di gustare la sua reale presenza. Alcuni si ritagliano una fede fai da te, che riduce Dio nello spazio limitato dei propri desideri e delle proprie convinzioni, ma questa fede impedisce di provocare davvero la vita e la coscienza. Altri riducono Dio ad un falso idolo, usano il suo santo nome per giustificare i propri interessi o addirittura l'odio e la violenza. Per altri ancora Dio è solo un rifugio psicologico in cui essere rassicurati nei momenti difficili. Si tratta di una fede ripiegata su se stessi, impermeabile alla forza dell'amore misericordioso di Gesù che spinge verso i fratelli. L'idea distorta di Dio. Ricordo una volta che Fra Faustino predicando in un paese parlò della misericordia di Dio, del fatto che ora Dio non è quello che manda castighi nel caso di errori o di peccati. Alla fine della messa si congratularono con lui e nel parlare del più e del meno con alcune persone, uno di loro parlando di una sventura accaduta a un suo conoscente disse, eh sì, il Signore l'ha castigato. Quanto siamo prigionieri di certe idee distorte di Dio, di un Dio a modi Zeus che viene a fulminare tutti gli infedeli. Giovanni attraversa questo dubbio, dice ma tu non sei quello che io mi sarei aspettato. Gesù infatti viene con categorie diverse. Dio supera sempre le nostre aspettative nella direzione della carità, diceva il Cardinale Comastri. Il Signore è oltre, arriva con categorie meravigliose, più alte, più belle, sublimi. La sua vendetta è la sua misericordia, la sua giustizia è il recupero del peccatore, la sua punizione è la vita donata facendosi carico del male e del peccato degli uomini. Dio supera le nostre idee nella direzione della carità. Allora alla domanda del Battista che manda da Gesù a chiedergli ma sei tu? La risposta di Gesù è come se dicesse io sono colui che vedi attraverso le mie opere. E che cosa viene a fare il Signore? Non viene a punire l'uomo, non viene a porre in primo luogo delle esigenze all'uomo ma viene a salvare l'uomo, viene a trasformare l'uomo, viene a guarire l'uomo. Ovviamente quando dico uomo intendo maschio e femmina, quindi uomini e donne. Dunque il Signore viene a operare la salvezza profonda di ciascuno di noi. Dio è per noi, non è contro di noi, dirà San Paolo. E dunque vediamo nelle opere del Signore ciò che è venuto a compiere. E dice i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono risanati, ai poveri è annunciato il Vangelo. Ecco l'opera di Dio. Noi ci aspettiamo che Dio intervenga dall'esterno magari risolvendo dall'alto le magagne dell'umanità. Dio viene a fare altro, viene a risolvere il problema profondo dell'umanità, cioè viene a salvare l'uomo, a trasformare il suo cuore. E dietro queste opere del Signore possiamo vedere un profondo significato spirituale, un significato anche simbolico che ciò che opera nella vita di coloro che accolgono davvero Gesù, recuperano vista, iniziano a vederci chiaro nella vita, a capire davvero chi è Dio e chi sono io. Iniziano davvero a camminare, gli zoppi sono risanati, quanti nella vita incespicano, zoppicano esistenzialmente, sono malfermi, continuamente entrano ed escono, o peggio ancora, giacciono nel male, nel peccato. Il Signore viene a guarire questa nostra infermità, a renderci fermi nel bene, capaci di donarci fino in fondo. E ancora viene a guarire la nostra lebra, che è simbolo del peccato, del male che sfigura la nostra vita, le nostre anime. E viene a risuscitare i morti, non soltanto a risuscitarci dopo la morte, ma anche ora a restituire vita, speranza, gioia, senso profondo del vivere a tanti che l'hanno perduto. Allora, ecco cosa viene a compiere il Signore nella nostra vita. Qual è la bellezza, la grandezza di Giovanni Battista, che alla fine verrà anche elogiato dal Signore stesso? La grandezza di Giovanni sta proprio nella sua umiltà di saper accogliere Dio per ciò che è. Chissà, nelle notti oscure del carcere, quanto avrà meditato su queste parole, quanto ci avrà pregato, e quanto si sarà lasciato rinnovare, trasformare anche nelle sue idee che aveva su Dio, anche nelle sue attese sbagliate che aveva su di Lui. Giovanni Battista è dunque un grande esempio perché prima di essere martire nel corpo, diceva il cardinale Comastri, è stato martire nel suo cuore. Ha saputo lasciarsi purificare nell'intimo e nel profondo da Dio e aderire ancora più intimamente e profondamente a Lui. È un grande esempio, si è lasciato davvero condurre da Gesù e ha accolto la difficile lezione della sua carità dicendo sì con tutta la sua vita, versando anche il suo sangue. chiediamogli davvero di lasciarci rinnovare nel cuore e nella mente e accogliere Dio per chi è davvero. E soltanto accogliendo Dio fattosi uomo, Gesù, e seguendolo possiamo far sì che tutte le menzogne che abbiamo nella mente su Dio vengano purificate, eliminate e così la nostra vita possa davvero divenire un capolavoro d'amore. Buon cammino a tutti, pace e bene!